Oggi siamo qui con l'onorevole Tallini, insomma dopo l'approvazione del cambio relativo a Vallicupe. Onorevole Tallini, passa la sua proposta di legge, precisiamo, visto che precedentemente non era stato fatto, che la proposta di legge di affidare e di creare giuridicamente Vallicupe era una sua proposta, e dopo di che, in seguito a una gestione dalla quale ovviamente lei adesso sicuramente ci indicherà i dettagli, cambia, insomma, grazie a questa proposta, la gestione che passerebbe a un ente privato. In primis vogliamo capire come nasce Vallicupe, come nasce questo comente giuridico, sottolineando che è stata lei a fare questa proposta. Sì, è importante precisare questo perché da qualche mese a questa parte ricevo numerosi attacchi via Facebook, sui giornali, sono stati coinvolti diversi sindaci sul principio che io voglia esautorare il comune di Sersale di una, diciamo, competenza che è richiamando alla solidarietà tantissimi altri sindici. Si parla di 31 sindici e quindi mistificando una realtà che purtroppo ancora non è venuta fuori ed io, grazie anche a questa intervista, ma non sarà l'unico chiarimento che è l'occasione di chiarimento, io oggi ho portato dei documenti ma l'ho fatto già in consiglio regionale, lo farò convocando tutti i sindaci che hanno sottoscritto un documento dove si dicono delle cose che non sono vere. Quindi, la prima cosa che non è vera è che io sia contro la comunità di Sersale. Perché precisiamo che il sindaco di Sersale, anche nella nostra intervista, ha detto che vuole essere cacciato Sersale. Lei a questo risponde? Che cosa ho fatto io per Sersale? Io ho fatto la proposta di riconoscimento della riserva Vallecupe con lo status giuridico, diciamo, pubblico e l'effetto di una iniziativa di legge portata avanti dal sottoscritto in un contesto difficilissimo dove io stavo all'opposizione e dove coloro che oggi si sono schierati con il sindaco di Sersale a cominciare dal consigliere regionale Scalzo hanno fatto di tutto per impedire l'approvazione di questa mia proposta di legge. Io ho fatto una proposta di legge dove la cosa più importante non era la gestione a Sersale perché quella l'abbiamo proposta come, diciamo, una opportunità importante per l'amministrazione comunale di Sersale ma dove la cosa più importante era il riconoscimento giuridico di Vallecupe con un progetto, con un iter legislativo che, diciamo, è passato dal comitato scientifico è passato dalle varie commissioni in riserva naturale. Cosa significa? Che Vallecupe da quel momento diventa pubblica poi si trattava di stabilire a chi affidare questa gestione pubblica e abbiamo stabilito nella stessa legge proposta da me quindi di stabilire che la gestione pubblica debba essere esercitata dal comune di Sersale punto. Quindi, mettendo un punto su questo argomento, Tallini è un nemico della città di Sersale o è un amico della città di Sersale? Io credo di essere un amico non avendo avuto mai nessuna attestazione, non pretendendo mai nessuna attestazione principale questo lavoro l'ho potuto fare perché sul piano politico ho fatto un lavoro che era mia competenza dove ci voleva grande maestria, intelligenza politica, credibilità perché dall'opposizione, unico firmatario, una cosa non si inserisce al primo punto, all'ordine del giorno viene approvato senza nemmeno che si potesse approfondire e discutere quindi una cosa eccezionale che io ho fatto per dare concretezza ad un lavoro che avevano fatto dei giovani quindi non c'entra niente il sindaco di Sersale, dei giovani che sono di Sersale che da ragazzi hanno saputo valorizzare quei siti di interesse ambientale guidati da Carmine Lupie e da altri suoi amici, ricordo Raffaele Lupie ricordo il giornalista Romano Pitaro che insieme a me ha seguito tutti i passaggi per giungere al riconoscimento quindi una cosa che io vorrei che gli amici di Sersale che io considero persone perbene e amici che in questo momento stanno ragionando su una mistificazione che è quella che il sindaco Torchia per i propri fallimenti sta cercando di giustificare cosa è successo poi? Ecco, cosa è successo poi? Perché la proposta che attualmente è stata approvata di cambio? Non si prevedeva questo riconoscimento di status giuridico prevedeva pure che alla riserva Vallecupe e quindi al comune di Sersale per gestire la riserva un contributo di 100.000 euro all'anno quindi noi in tre anni Tallini, nemico del sindaco di Sersale e di Vallecupe ha contribuito a portare a Sersale 300.000 euro in tre anni altra questione riguarda un po' quello che è accaduto tutto questo lavoro io l'ho fatto perché ho creduto a quello che mi ha fatto vedere un gruppo di persone tra cui le persone che prima ho detto quindi allora dopo di che si comincia a lavorare e si comincia a lavorare con grande entusiasmo una cosa di non poco conto in prossimità dell'approvazione della legge subito dopo c'erano le elezioni amministrative a Sersale ebbene il sindaco che mi accusa di essere suo nemico o nemico della comunità di Sersale attraverso la legge che porta il mio nome non porta il suo nome non solo la prima non solo la seconda ma anche la prima porta quello e lui non dice che qual è il merito di chi ha fatto riconoscere Vallecupe come riserva naturale perché questo non lo dice perché non gli conviene perché il vero contributo alla comunità di Sersale è la trasformazione di un sito di interesse ambientale in riserva naturale riconosciuto con lo status giuridico in sostanza per precisare lei con questa legge avrebbe favorito la comunità di Sersale anche con insomma se il riconoscimento dello status giuridico porta la mia firma unica firma in consiglio regionale e porta l'approvazione dell'unanimità del consiglio regionale io dall'opposizione e vuol dire che insomma mi sarebbero saputo battere a favore della comunità di Sersale avrò saputo dire e spiegare ai colleghi dei consiglieri regionali che quella era una cosa eccezionale o comunque ho saputo fare nei vari passaggi approvare la legge poi ci siamo confrontati col bilancio e siamo riusciti perché all'inizio non c'erano risorse io sono andato a pregare i funzionari che conoscevano Vallecoupe che apprezzavano Vallecoupe che mi hanno espresso apprezzamenti per quello che stavo per fare i dirigenti, i funzionari del bilancio mi hanno detto fai bene a fare questa cosa e in quella sede anche i funzionari anche con una partecipazione sentimentale ed emotiva hanno contribuito a recuperare 100.000 euro tant'è che questo destò anche preoccupazione in quelli che oggi sono amici del sindaco di Sersale che hanno fatto l'ira di Dio perché dicevano che erano andati da Oliverio prima e che Oliverio non gli aveva dato nessuna possibilità di considerare la riserva Vallecoupe e allora si andò avanti dopodiché comincia a funzionare le prime cose si nomina come giusto riconoscimento non solo locale a Carmene Lupia il ruolo di direttore ebbene da quel momento cominciano i problemi i problemi tant'è che io non è che cambio idea un giorno dopo cambio idea dopo tre anni di gestione facciamo il punto su quelli che sono stati i tre anni di gestione e il perché si è arrivati dopo tre anni a questa volontà di cambiamento io non è che sono sono impazzito improvvisamente e ho deciso per la ripicca al sindaco Torchia di fare questa cosa no allora dopo tre anni io ricevo puntualmente da parte di coloro che hanno voluto la riserva ed è il gruppo di cui ho parlato prima con in testa Carmene Lupia che le cose non andavano bene che il ruolo del direttore cominciava ad essere diciamo offuscato da iniziative di consiglieri comunali del sindaco che nella migliore dei casi era un sindaco che non voleva prendere iniziativa per cercare di dare e garantire autonomia al direttore della riserva per cui la politica ha messo le mani sulla riserva quindi il problema è stato praticamente che l'ente Vallecupe non aveva più l'autonomia necessaria per una gestione diciamo libera come insomma era stato previsto certo e qua viene fuori diciamo il vero problema diciamo che riguarda un po' tutto il mezzogiorno e in maniera particolare la Calabria quando poco poco l'amministrazione scrive una pagina bella come quella scritta con il riconoscimento della riserva Vallecupe e allora invece poi emerge il peggio della politica e quindi con le risorse della riserva e invece di pensare a migliorare la riserva cose che avevano fatto gratis i volontari prima Carmine Lupia che avevano fatto di tutto per promuoverla io voglio ricordare le ragioni che Anna Gaspel praticamente la matrina della riserva ha detto di Carmine Lupia di Romano Pitaro cioè quelli che hanno saputo veicolare in Italia in Europa e nel mondo il valore di Vallecupe il sindaco di Sersale non c'entra niente in questa vicenda e allora invece diventa gran protagonista nel momento in cui arrivano i soldi che io ho fatto destinare per la gestione e allora spuntano e i consiglieri devono avere diciamo si devono fare la campagna elettorale e devono farsi gli amici devono tenersi gli amici e quindi una serie di attività clientelari che il comune di Sersale attiva per cercare di soddisfare le esigenze dei vari consiglieri comunali di Sersale che a loro volta devono tenere in equilibrio un sindaco che magari ecco si poteva pure opporre contestualmente iniziative che non vengono nemmeno sottoposte al direttore della riserva non solo ma dallo stesso direttore mi si dice mi si viene detto e mi si informa che addirittura ci sono una serie di cose che a lui vengono nascoste per cui questo direttore questo si è dimesso anche sì arriviamo alle dimissioni questo direttore Carmine Lupia continuando di questo passo e continuando a vedere io ne ho ne ho preparati alcune di queste cose di queste di queste determini che sono qua ecco sono contributi acquisto di libri ma scusatemi è mai possibile che si possono acquistare l'amministrazione comunale si stampa un libro che parla dell'attività di Sersale e poi con i soldi della riserva si acquista questo libro con cifre con cifre onestamente che fanno che fanno davvero diciamo riflettere 250 copie circa 7000 euro ma scusatemi ma questi sono i soldi della riserva ed è una delle tante poi abbiamo i contributi al contributi affidamento con affidamento diretto ad associazioni culturali sarebbero stati dati dei contributi a delle associazioni culturali con contributi da parte di Vallecupe dell'ente vedi tutto il capitolo Vallecupe quindi ogni consigliere ha portato una proposta contributo alla società di calcio 1500 euro contributo alla prologo 2000 euro quindi sciala popolo insomma con i soldi della riserva il sindaco di Sersale ha trovato la manna che gli è venuta dal cielo e quindi io ritengo invece che è stata una cosa gravissima quella che è avvenuta negli anni se poi aggiungiamo che per effetto di questo atteggiamento e per effetto del fatto che il direttore della riserva che è quello che si è inventato la riserva non ha potuto più esercitare il suo lavoro così come aveva detto e pensa no che aveva preparato il piano paesegistico da fare approvare poi alla regione l'aveva trasmesso da tempo e siccome dovevano pensare di chi e come dividersi diciamo i contributi dati dalla regione i vari consiglieri comunali è la cosa più importante per cui la regione poi valuta ed eroga successivi finanziamenti non veniva nemmeno presa in considerazione guarda caso quando avviene questa approvazione in consiglio comunale soltanto dopo che io avevo già depositato la proposta di legge di revocare questa cosa quindi cosa viene fuori un quadro devastante è il mio atteggiamento di grande responsabilità ma è proprio a favore della comunità di Sersale e lo spiego perché intanto l'iniziativa che ho assunto non toglie nulla alla comune di Sersale alla città di Sersale ai cittadini perché la riserva è là con tutte le sue strutture e rimane là semmai aggiungerebbe una cosa che cosa aggiungerebbe che il comune c'è c'è un palazzo c'è le strutture e rimane che lega ambiente sarà costretta a fare i suoi per la gestione i suoi locali sarà che non è ecco quando dice io la prima volta che sento dire lega ambiente un'associazione privata abbinare al lega ambiente il tema un'associazione privata come se i responsabili di lega ambiente fossero personaggi che facessero che fanno dell'uso delle risorse pubbliche un uso privato io direi che magari ce ne fossero tante associazioni che lavorano con le finalità e gli obiettivi di lega ambiente l'associazione che per eccellenza è la più rinomata la più qualificata in Italia è lega ambiente quindi il fatto di dire privata quasi per sminuire uno si vuole fare i fatti suoi insomma quasi quasi i fatti privati no ed è un altro argomento quindi quando poi si porta avanti l'iniziativa di cercare di mettere da parte l'ideatore della riserva cioè il direttore della riserva Carmela Lupia al punto tale che questo decide di dimettersi e le decisioni di Carmela Lupia sono contenute in una lettera che abbiamo avuto noi componenti della commissione quando abbiamo audito le cose che diceva il sindaco Torchia ma anche quello che ci ha riferito il direttore della riserva Lupia che diceva io mi sono dimesso perché non sono stato più messo nelle condizioni di poter svolgere il mio lavoro con obiettività anzi veniva messo da parte e allora diciamo che come si vede viene un quadro un tantino diverso io sto lavorando ho lavorato per la comunità di Sersale certo in questo momento che cosa caccio io per usare lo stesso termine del sindaco caccio dalla mano clientelare del sindaco di Sersale la gestione dei fondi della riserva che venivano utilizzati per fare feste festicciole e solo in minima parte finalizzate a migliorare diciamo la qualità diciamo delle riserve ti posso dire che da quando non c'è si è dimesso e nessuno si scandalizza nessuno parla più della riserva io mi sono fatto uno studio e per esempio va bene in questo momento la sentieristica vi aggiungo che oltre 300 mila euro già il comune di Sersale ha avuto sempre per il lavoro di Carmine Rupia finanziato altri 220 mila euro per la sentieristica ma di questa sentieristica visto che sono più di organizzare sono più attenti e sensibili a vedere come papparsi i contributi regionali della riserva su 36 sensieri soltanto tre sono curate quindi tutti gli altri sono abbandonati basta fare una piccola telefonata alla sede della riserva e alla cooperativa che gestisce la riserva e vorremmo chiedere quanti sono i sensieri quali sono i sentieri ti diranno che solo tre sono i sentieri praticabili eppure hanno avuto questo finanziamento ma perché senza il direttore che è quello che ha realizzato tutto tutto viene abbandonato e tutto viene lasciato un altro aspetto importante la riserva ecco è un'altra delle cose io ho detto non potete speculare sull'ingresso alla riserva la riserva è così come il dipartimento ambiente della regione ci ha spiegato non può essere fare pagare per vedere una riserva naturale cioè quello che la natura ci ha dato pagare un biglietto non esiste e di fatti hanno precisato che questo è illegittimo ma serviva a fare cassa e quindi ad introitare ulteriori risorse da spendere secondo insomma le logiche che insomma immagino che io che se sono in sintonia con gli atti deliberativi che vedo io quindi sono argomenti questi che insomma sicuramente lasciano molta perplessità sul modo di gestire insomma i fondi che derivano dalla il dipartimento ambiente ha detto che è illegittimo fare pagare un biglietto di ingresso quando si paga anche un euro quell'euro deve essere giustificato solo per servizi che la comunità la riserva dà ai visitatori se io vado nel canyon e mi danno il casco io pago l'uso del casco se io ci sono le guide io pago solo il costo delle guide non che tu mi fai pagare un prezzo così 5-6 euro magari come vuoi tu e non te ne frega niente qual è il servizio che tu mi dai o pensi che comunque tu hai il diritto di fare pagare anche se entri in una riserva così naturale dove tu comune non c'entri niente e dove è stata solo madre natura che ci ha fatto questo bel regalo aggiungiamo un ultimo particolare quindi come si vede emerge una realtà che i tanti sindaci perché è chiaro che il sindaco di Sersale dove la mette la mette sul fatto che io voglia sottrarre la gestione al comune di Sersale intanto non dice chi ha dato la gestione al comune di Sersale intanto non dice qual è il vero riconoscimento il vero vantaggio per Sersale che è il fatto di aver saputo trasformare una riserva perché lui poteva anche dolersi ecco Torchio o i Sersalesi e mi passino pure questo tema se io fossi andato in consiglio regionale preparando una proposta di revoca della proposta di legge che istituiva la riserva no io non è che sono andato a revocare la riserva l'istituzione della riserva che è a Sersale e resta a Sersale tra l'altro in termini aggiuntivi alla comunità di Sersale verrà la sede di lega ambiente che sarà a Sersale dove a Sersale ci saranno anche diciamo la sede dove saranno coinvolti i comuni che lega ambiente si è impegnato attraverso è obbligato a impegnarsi attraverso la legge a coinvolgerli nella gestione che insistono sulla riserva i comuni che insistono io aggiungerei perché mi permetterò di chiederlo personalmente alla lega ambiente non solo quelle che insistono sulla Sersale perché poi il sindaco Torchia ha una bella una bella impostazione quando vuole ha riserva di Sersale ora è diventato di tutto il comprensorio è vero ha solidarietà i sindaci ma quando ha voluto difenderla con i denti dalla ingerenza dei comuni su cui ci sono insistono pure basta dire il comune di Zacarese una parte della riserva e proprietà la no la ha fatto ha alzato le barricate doveva gestire solo il comune di Sersale e noi siamo stati vicini al sindaco Torchia questo dovrebbe pure dirlo oggi abbiamo un quadro diverso quindi complessivamente Tallini non porta nulla e non porta via nulla al comune di Sersale semmai aggiunge che cosa si aggiungerà la sede della riserva che Lega Ambiente vorrà fare non solo ma costringerà i comuni limitrofe e noi diremo anche i comuni dell'ambito a essere coinvolti quindi ad andare a Sersale dove Sersale dal punto di vista ambientale con la riserva Valle Cup diciamo ormai svolge un ruolo da capofila un ultimo particolare vorrei aggiungerlo perché credo che tutti questi sono elementi che sono abbastanza sufficienti per dire che praticamente per dire che le cose non stanno assolutamente come dice il sindaco di Sersale Torca io a parte che farò una conferenza stampa con tutti i sindaci che hanno firmato porterò tutte le carte in maniera dettagliata ma un altro particolare per rispondere al presidente della commissione antimafia che praticamente di tutto si interessa tranne che di fare la vera lotta alla criminalità e alla corruzione perché Bova ha detto che questa legge potrebbe essere incostituzionale perché ha detto lo sai perché potrebbe essere incostituzionale ha spiegato pure perché dice che siccome Lega Ambiente è una associazione privata è incostituzionale io mi sono permesso soltanto di sottolineare due cose prima che tutte le associazioni ambientaliste da Lega Ambiente ad altre associazioni in Italia compreso il WWF gestiscono tante riserve ma io senza andare da nessuna parte sono andato alla regione Calabria e ho preso questa delibera che lascio a te in maniera tale che come documentazione nel 1990 sono state create due riserve naturali le due riserve naturali sono una nel bacino del Tarsia e un'altra nel bacino del fiume Crati questa è la proposta di legge che istituisce le riserve poi all'interno c'è tutto un po' diciamo come deve essere impostato i termini particolari di come di quello che rappresenta la riserva all'articolo 7 c'è scritto gestione delle riserve e allora la voglio leggere e poi fare una considerazione la gestione delle riserve naturali è affidata alla regione Calabria ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge regionale 14 luglio 2003 numero 10 e successive modificazioni all'associazione di protezione ambientale quindi associazione di protezione ambientale amici della terra riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione allora queste due riserve sono gestite da amici della terra che è un'associazione privata che non ha nemmeno diciamo la storia diciamo e la credibilità di un'associazione come Lega Ambiente da 19 anni visto che questo siamo dal 1990 da 19 anni praticamente no da 29 anni scusami dal 1990 sono 29 anni che questi gestiscono due riserve naturali e il presidente della commissione antimafia purtroppo non se ne è accorto io vorrei che insomma richiamarlo a questa sua disattenzione che guarda caso e a macchia di leopardo e non con visioni diciamo comprensibili o diciamo o ragionamenti diciamo che sono che hanno una coerenza perché in questo caso come si vede questa è una grande trave negli occhi di chi da una legislatura fa il presidente della commissione della trasparenza io glielo segnalo perché dovrebbe secondo le sue teorie andare a verificare come sia potuto essere che una riserva possa due riserve naturali possono essere state gestite per 29 anni da un'associazione privata e per questo hanno avuto finanziamenti nessuno li ha contestato hanno avuto tutto quello che di conseguenza sono quelle cose che regolano insomma il rapporto con le riserve però una domanda io gliela voglio fare le ho fatte a parlare perché è giusto che lei chiarisca che lei chiarisca tutti i punti che non sono stati chiariti però mi faccio un attimo due cose prima di tutto nessuno vuole mettere assolutamente ma in dubbio l'attività di lega ambiente perché insomma sono gli occhi di tutti ma lei insomma forse mi può chiarire anche meglio dal punto di vista diciamo legislativo quindi si può affidare la gestione tranquillamente non è una cosa sbagliata non è una cosa incostituzionale ma questo è chiaramente lo dice già una legge già approvata e in Italia io ho ripetuto lega ambiente WWF amici della terra gestiscono decine e decine e decine e decine di riserve naturali quindi vuol dire che la legge glielo consente e che queste associazioni naturali sono in conformità alla legge nazionale sui parchi e sulle riserve e quindi recepite con una legge regionale e che legge regionale che deve essere compatibile con quella nazionale quindi stiamo parlando di cose legittimissime quindi infine visto che il sindaco di Sersare l'ha attaccata insomma anche in maniera diciamo politica forse anche un po' abbastanza personale parlando di ripicche non so se lei oltre vuole rispondere a queste tra virgolette accuse che le ha fatto perché lui ha parlato di ripicche va bene non sa che cosa dire il sindaco di Sersare e si inventa queste cose io se devo ecco esprimere un giudizio questo è un vero fallimento del sindaco di Sersare perché il sindaco di Sersare avrebbe dovuto fare da garante col direttore del parco della riserva rispetto al filtro col consiglio comunale invece si è dimostrato un re travicello un sindaco travicello tirato dalla giacchetta dei vari consiglieri comunali e lui per evitare che venisse sfiduciato in consiglio o perdesse la fiducia dei suoi consiglieri che avevano messo le mani sui contributi erogati dalla regione per iniziativa del sottoscritto e non di nessun altro la legge porta il nome di Tallini quindi anche oggi nel momento in cui noi la portiamo dalla gestione del comune alla gestione a lega ambiente tutto rimane a Sersale ma quello che nessuno può mettere in discussione e vorrei che questo sindaco che dice che si batte per la gente per il popolo e che si batte per le cose se vorrà un giorno dare atto che il vero regalo alla comunità di Sersale è stata che un sito di interesse ambientale quale era Vallicope per iniziativa di Tallini e solo di Tallini è stata portata avanti attraverso un percorso accidentato ma diciamo che insomma ha saputo superare tutte le difficoltà anche perché la riserva ha delle qualità e quindi diciamo che Vallicope è conosciuta e si difende da sola rispetto e si fa difendere da sola ma io da solo nelle commissioni certo ho avuto l'attestazione nella condivisione degli altri nella commissione bilancio nella quarta commissione dove io sono vicepresidente in consiglio regionale proposta da me e da nessun altro all'unanimità quindi un sito di carattere ambientale è trasformato in riserva naturale Torchia e gli amici di Sersale che vengono traviati da questo messaggio subito potevano lamentarsi solo in un caso nel caso in cui io avessi portato una proposta di legge in consiglio regionale per dire la riserva Vallicope è una legge sbagliata dobbiamo revocare questa proposta di legge per me non è un sito di interesse ambientale invece non solo rimango convinto di aver fatto una cosa bella per la Calabria ma per l'intero paese e per l'intera nazione ma rimango convinto del fatto che Vallicope è un esempio di come lo era prima che venisse riconosciuta noi abbiamo dato lo status giuridico gli abbiamo dato la legittimazione per iniziativa di questi ragazzi ma è un esempio di come in Calabria si può fare il sviluppo possibile ed ecocompatibile quello sviluppo che è in sintonia con la vocazione naturale del territorio cioè senza fare niente senza fare industria senza fare nulla basta valorizzare il nostro territorio e diciamo la Calabria può guardare attraverso questa filosofia questa politica con ottimismo verso il passato non solo per dare sviluppo e occupazione ai propri abitanti ma per dire a tutti quelli che sono fuori dalla nostra Calabria che possono tornare perché sono tantissimi i siti di interesse diciamo ambientale come Vallicope questa è la realtà e questa è la verità e vorrei visto che io mi riservo per l'altro aspetto di querelare il sindaco Torchia perché poi mi dovrà dire dove io l'ho ricattato che cosa gli avrei detto io per ricattarlo le questioni politiche se le vuole io credo invece ad una cosa che proprio per effetto dell'approvazione di questa legge perché lui ha avuto tutto il tempo possibile immaginabile da quando io ho proposto alla legge fino a quando poi non è stata approvata in consiglio regionale mesi sono passati a recuperare ci siamo seduti a questo tavolo gli abbiamo posto le condizioni il direttore Carmine Lupia non si deve toccare va bene perché l'anima della riserva la rappresenta lui e non il consigliere comunale del comune di Sersale ebbene doveva essere sottoscritto un impegno che non c'è stato e quindi praticamente quello ha mantenuto le dimissioni e si è andata avanti in queste condizioni minacciando ogni giorno su facebook e diciamo cercando di buttare fango sulla mia immagine grazie a Dio ho una storia e al di là di chi non mi conosce o mi conosce poco sa bene come in questo caso che cosa io sono riuscito a fare da solo a pavore della comunità di Sersale sono tutte cose che io potrò documentare non ho chiesto targhe non ho chiesto diciamo riconoscimenti formali non ho chiesto attestazioni non ho chiesto nulla ma quello che io ho portato a Sersale l'ho fatto solo io il sindaco Torchia invece con la sua attività lo ha tolto quindi se ce n'è uno che ha cacciato dalla gestione il comune di Sersale è stata la incapacità del sindaco Salvatore Torchia vittima e prigioniero dei consiglieri comunali della sua maggioranza che ogni giorno vanno con una richiesta che deve essere soddisfatta appena la speducia al suo ruolo di sindaco di Sersale Grazie a tutti.